Sono Anna Maria Gandolfi, sono la direttrice di Scuola Bottega Artigiani di Brescia ma anche di altri sedi. Scegliere Scuola Bottega perché è una scuola inclusiva, accogliente e non dice di no a nessuno a parte il limite dei 30 alunni in classe quindi le risponderei immediatamente così però è bene anche sapere e conoscere la storia di Scuola Bottega. Scuola Bottega nasce dalla lungimiranza di Beppe Nava che tanti ricorderanno a Brescia un'istituzione ancora negli anni 70. Lui ha inventato quello che oggi chiamiamo alternanza scuola lavoro. Praticamente il suo motto era questi ragazzi adolescenti finita la scuola media dove vanno? In mezzo alla strada. Io gli insegno un lavoro quindi la mattina al lavoro e il pomeriggio a scuola. Questa era la sua alternanza. È partito con sette studenti e ha fondato Scuola Bottega Artigiani. Da allora oggi contiamo quasi mille studenti. Il 90% dei nostri alunni trova lavoro già ancora prima della qualifica professionale. Abbiamo ben 12 corsi professionalizzanti distribuiti su tre sedi a Brescia e due nel comune di Calvisano a Mezzane e via Dana. I corsi sono distribuiti su Brescia sulla sede di via Ragazzi e la Pendolina il meccanico d'auto e i carrozzieri che sono molto molto richiesti. In particolare i carrozzieri perché non li troviamo. Sulla sede di via Carducci 43 abbiamo l'addetto alle vendite e abbiamo il grafico. Sulla sede invece della Bettinzoli che è la nuova sede dove a gennaio siamo lì abbiamo cinque corsi. Informatico, abbiamo il corso di idraulico, elettrico, panificazione e pasticceria. Quest'anno attiveremo anche la linea del cake design con un docente di grido, quindi non vi preannuncio il nome ma sarà veramente una cosa eccezionale per scuola bottega e ci farà da testimonial sulla pasticceria panificazione. Macchine utensili, ebbene sono tutte professioni molto richieste. Noi riceviamo moltissime richieste, moltissime mail proprio per collocare questi ragazzi perché li vogliono in apprendistato. E a proposito di apprendistato mi piace ricordare che abbiamo anche il settore area lavoro. Cosa vuol dire? Facciamo corsi per adulti, i corsi ASA OSS, quindi sul sanitario. Facciamo dei corsi a pagamento di specializzazione ma soprattutto in questo periodo abbiamo dei corsi gratuiti per alfabetizzazione per persone ucraine. Quindi chiedo vivamente a tutti di interessarsi e andare a visitare il nostro sito www.scolabottega.org e vedere in area lavoro quanti corsi abbiamo a disposizione. Sono davvero numerosi. Finisco col dire sulla sede di Mezzane abbiamo anche lì meccanici d'auto e pasticceria panificazione. Sulla sede di Viadana invece abbiamo altri corsi che sono la Sartoria. Lì abbiamo ancora dei posti liberi quindi sollecito le iscrizioni al corso di Sartoria e addetto alle vendite che sembra sottovalutare però guardate che a fare il commesso o la commessa o l'accoglienza nei grandi supermercati nella GDO è molto importante avere una formazione. Quindi vi attendiamo alle iscrizioni che sono ancora aperte. Andate a vedere su Brescia orienta quali posti ancora sono disponibili perché per nostra fortuna e per sfortuna dei ritardatari abbiamo già dei corsi full, sono pieni. Anche in corsa soprattutto noi siamo una scuola come dicevo molto inclusiva e verso novembre quando qualcuno si è accorto che ha scelto, sbagliato il corso di istituti scolastici superiori, allora cambiano e sono riorientati. Non cito i nomi degli istituti però noi abbiamo accordi con certi istituti tecnici che appunto ci chiamano e ci chiedono se possono riorientare alla nostra scuola, ai nostri corsi, i loro allievi. e l'anno scorso ne sono arrivati verso novembre ancora una cinquantina. Ma c'erano posti, quindi io sollecito vivamente le famiglie a fare la scelta giusta. Ecco perché il nostro motto è hashtag io scelgo scuola bottega oppure hashtag scuola bottega what else.